Vediamo un altro circuito adesso abbastanza semplice a scatto che utilizza un flip flop SR del tipo che abbiamo visto insieme è un circuito che si chiama LM555, è un esempio di timer questo ve lo faccio vedere come esempio di circuito che utilizza un po' di blocchi digitali in particolare un latch SR e poi un po' di circuiti analogici giusto per farvi vedere un esempio di come si possono mischiare le due cose e questo venne realizzato come circuito integrato questa è la sigla commerciale LM555 che viene fatto da tanti è molto molto semplice, ha soltanto all'interno un latch SR quindi che ha RS come ingresso, Q e Q negato come uscita e poi ha un po' di blocchi analogici di intorno cioè qua c'è uno stadio di uscita quindi immaginate qui una specie di buffer che porta la stessa tensione qua però con una capacità di erogare corrente nettamente più alta poi questo Q negato viene utilizzato come ma anche in realtà anche come MOSFET viene utilizzato come tensione del pilotare il gate di un transistore che fa da pull down e questa uscita qua si chiama discharge quindi questa uscita è un'uscita che si sa può essere collegata a massa o flottante poi chiaramente c'è la massa e l'alimentazione per forza poi SR sono invece controllati da due comparatori dove una tensione di controllo viene ottenuta dall'alimentazione attraverso un partitore per tre quindi qui ho tre resistenze uguali quindi qui c'è VDD e qui c'è ground GND e qui c'è una tensione che si chiama threshold soglia il nome del piedino VTH possiamo chiamare l'attenzione e di qua invece di qua invece c'è un piedino che si chiama VTR si chiama trigger quindi questo è un latch SR di solito si sceglie un latch che conserva sullo 0,0 i latch possono conservare sullo 0,0 o sul 1,1 a seconda come si è realizzato diciamo che questo qui conserva sullo 0,0 quindi com'è che funziona ecco tutto questo viene fatto dentro un unico package quindi un'unica confezione che ha sei piedini i sei piedini sono questi che ho indicato qua cioè threshold trigger output discharge VDD e ground questi sono tutti ho sei piedini accessibili se lo vedete dentro SPICE questo viene fatto così vi da questi sei ovviamente vi da output ci chiamano così proprio anche dentro SPICE output discharge GND VDD threshold trigger allora com'è che funziona vediamo un pochino ma in linea di principio è abbastanza facile da vedere perché in pratica che cosa avete avete che a seconda dei valori di threshold trigger cambiano gli ingressi di quei comparatori e quindi potete avere diverse configurazioni di RS in questo punto il latch può andare su Q uguale a 1 Q uguale a 0 può conservare lo stato quindi si tratta di vedere adesso a seconda delle configurazioni di threshold e trigger come cambiano le uscite chiaramente questa tensione qua è un terzo VDD le resistenze sono uguali e questa tensione qua è due terzi VDD quindi threshold viene confrontata con due terzi VDD e trigger viene confrontata con un terzo VDD quindi per vedere un po' la tabella di verità non la tabella di verità quindi in stati diversi possiamo fare questa cosa qua ci sono quattro combinazioni possibili proviamo a farle così ci sono quattro combinazioni possibili una situazione è per V trigger facciamo per threshold e una situazione un'alternativa c'è su trigger allora abbiamo detto torniamo indietro qui threshold può essere maggiore o minore di due terzi VDD quindi VTH maggiore di due terzi VDD e VTH minore di due terzi VDD minore di due terzi VDD e VTH maggiore di due terzi VDD cosa succede? quando VTH è minore di due terzi VDD ok? l'ingresso del comparatore è negativo quindi l'uscita è bassa e abbiamo R uguale a zero quando VTH è maggiore di due terzi VDD abbiamo R uguale a uno quindi qui aggiorniamo la tabella qui abbiamo R uguale a zero qui abbiamo R uguale a uno qui R uguale a zero R uguale a uno su trigger invece abbiamo una situazione diversa trigger viene confrontato con un terzo VDD quando è più piccolo S uguale a uno perché l'ingresso del comparatore è alto quando è più grande S uguale a zero quindi vado qua quando VTH è più piccolo di un terzo VDD abbiamo S uguale a uno quando VTH è maggiore di un terzo VDD abbiamo S uguale a zero e queste sono le situazioni cosa abbiamo come condizione quando S è uguale a uno Q è uguale a uno Q è collegata all'uscita quindi abbiamo output uguale a uno e Q negata è uguale a zero quindi MOSFET di discharge non conduce e quindi discharge è flottante quindi come l'abbiamo chiamato in alta impedenza quando è flottante il caso come nelle three state nell'altra situazione invece abbiamo output uguale a zero perché S è uguale a zero R uguale a uno quindi vuol dire che Q negato è uguale a uno il transistore di pull down dell'uscita conduce quindi discharge va a zero ok? perché abbiamo una pull down che porta l'uscita a zero poi abbiamo detto che quando qui siamo qua RS uguale a zero conserva lo stato quindi output e discharge non variano e invece R uguale a uno e S uguale a uno è da non utilizzare perché poi non sappiamo che succede di fatto avremmo con S uguale a uno e abbiamo qui tutte e due le uscite cosa succede? insomma non è da utilizzare poi dipende da come è realizzato il flip flop esattamente cosa succede per il momento non avendo ulteriori indicazioni è da non utilizzare quindi questa è la situazione vedete in pratica i due blocchi interessanti sono questi quelli sulle diagonali se tutte e due sono bassi abbiamo output a uno se tutte e due le tensioni sono alte abbiamo invece l'uscita a zero se invece siamo nel blocco in basso a sinistra quando Vtr è maggiore di un terzo Vdd e Vth è minore di due terzi Vdd abbiamo la conservazione ok? che ci si fa con un blocco del genere? si possono giocare si possono fare tanti circuiti distinti per esempio vediamo un po' dei circuiti che abbiamo già visto che si riescono a raccontare abbastanza velocemente per esempio io prendo questo ho l'uscita che porto fuori e faccio così metto threshold prendo threshold dalla tensione su una capacità questa capacità la faccio caricare attraverso una resistenza R verso Vdd e poi la scarico utilizzando discharge il discharge può fare da pull down quindi posso utilizzare per scaricare tutto e qui trigger invece ci collego un'attenzione di ingresso quindi questo è trigger e questo qui è threshold allora con questo ottengo un generatore di gate di impulso rettangolare il generatore di impulso rettangolare si chiama anche multivibratore monostabile non mi ricordo se l'ho già detto è un generatore di impulso è lo stesso sinonimo esattamente lo stesso significato non mi ricordo se ve l'ho detto quando vi ho visto il generatore di impulso rettangolare è abbastanza semplice il funzionamento e in pratica che cos'è che succede? immaginate la tensione VIN è a riposo alta e a un certo punto quando volete far partire l'impulso la portate in basso sotto un terzo Vdd perché un terzo Vdd abbiamo un cambiamento di comportamento vediamo di fare quindi immaginiamo che cosa sia lo 0 vediamo che cosa succede prima di 0 e poi dopo allora immaginiamo che bisogna capire qual è lo stato di partenza chiaramente trigger è alto quindi possiamo essere torniamo un attimo indietro se VTR è maggiore un terzo Vdd possiamo essere qui o qui quindi o discharge output non variano o sono 0 supponiamo che siamo in questa situazione vediamo se torna quindi discharge è 0 vabbè facciamo tanto non torna discharge è 0 e output è 0 vediamo se è possibile tanto non sappiamo qual è la situazione di partenza quindi bisogna fare la prova vedete quello che non torna qua è che se discharge è 0 vuol dire che questa capacità è scarica no perché discharge è un pull down quindi la capacità è scarica se la capacità è scarica threshold è basso e se threshold è basso torniamo un attimo indietro vedete che con threshold basso con threshold basso con threshold basso potremmo essere qui con output e discharge che non variano quindi potrebbe andar bene vediamo potrebbe andar bene potrebbe andar bene come è stato questo è basso d'accordo quindi abbiamo discharge uguale a 0 quindi la capacità vc è uguale a 0 e quindi q è uguale a 0 facciamo questa situazione quindi vedete flip flop conserva lo stato ok adesso quindi questo è il punto di partenza vi ho fatto l'ipotesi abbiamo visto che è compatibile con l'ipotesi quindi ok allora a questo punto abbiamo all'istante 0 l'attenzione di ingresso viene portata sotto un terzo vdd d'accordo quando viene portata sotto un terzo vdd tornate un attimo indietro che cosa succede passiamo da questa situazione ok a la situazione in cui dunque no abbiamo detto siamo qua in questa situazione siamo con cioè se partiamo da qui poi però vtrash va bassa quindi ci troviamo qua allora in questa situazione se vtr va sotto un terzo set viene portata a 1 istantaneamente tornate un attimo indietro su questo quindi abbiamo trigger che era alto threshold era basso a questo punto trigger viene portato sotto un terzo vdd set scatta a 1 r rimane a 0 perché la tensione su threshold non cambia q viene portato a 1 e discharge va in alta impedenza perché q negato va a 0 va bene quindi ricapitoliamo scriviamo quello che ho appena detto allora t uguale a 0 più v in va a finire minore di un terzo vdd e questo fa sì che r vada a 1 r rimane a 0 e quindi q va a finire a 1 e discharge va in alta impedenza se il discharge va in alta impedenza la capacità è libera di caricarsi attraverso la resistenza a tensione vdd quindi abbiamo la capacità si carica attraverso r a tensione vdd va bene ora a questo punto l'impulso immaginate che finisca subito che quindi ritorni alto però se l'impulso ritorna alto mi porto da questa situazione a questa e nel momento in cui vtr da minore di un terzo vdd torna sopra un terzo vdd il latch conserva quindi lo stato di output e di discharge non cambia va bene quindi in pratica mi trovo che continua la situazione in cui la capacità continua a caricarsi verso la tensione vdd quando è che cambia qualcosa cambia qualcosa quando abbiamo una commutazione di un comparatore all'ingresso cioè quindi quando threshold che è la tensione sulla capacità supera due terzi vdd perché appena supera due terzi vdd che cosa succede guardate il timer quando threshold supera due terzi vdd r va a 1 e quindi q viene portato a 0 q negato va a 1 e quindi discharge scarica di nuovo va bene quindi vediamo l'andamento delle tensioni sul circuito quindi prendiamo prima vth poi prendiamo trigger e poi prendiamo la tensione d'uscita allora vth qui prendiamo vtr e qui prendiamo v u mettiamo lo 0 qui e scriviamo le cose che abbiamo detto allora noi che cosa abbiamo detto abbiamo detto che all'istante per t minore di 0 noi avevamo vtr alto pari a vdd avevamo vth 0 perché discharge conduce quindi fa da pulldown e quindi v era uguale a 0 quindi questa è la situazione di partenza questo è output v è output quindi 0 questa è la situazione di partenza poi abbiamo che vtr ha questo andamento quindi scende sotto un terzo vdd in questo momento ah e prima quanto valevano sr valgono s uguale a 0 r uguale a 0 ok a un certo punto vtr scende sotto un terzo vdd e quindi abbiamo una commutazione al comparatore che è vicino a a vtr quindi cosa succede qui vtr scende sotto un terzo vdd s va a 1 e quindi q viene portata a 1 e q negato va a 0 quindi discharge si stacca c'è la pulldown non c'è più allora in questo momento solo in questo momento abbiamo s uguale a 1 r uguale a 0 quindi l'uscita va alta va a vdd e la tensione di threshold che è uguale alla tensione sulla capacità comincia a caricarsi con costante di tempo r per c e asintoto vdd quindi comincia a tendere con la costante di tempo tau uguale a r per c alla tensione vdd un attimo dopo trigger torna alto ma quando torna alto che cosa abbiamo abbiamo s r uguale 0 0 di nuovo e quindi il latch conserva lo stato e non cambia niente del resto d'accordo quindi qui rimane alta diciamo la durata dell'impulso di trigger non è importante conta soltanto quando scende o quando sale non fa nessun effetto quando è che cambia le cose nuove quando la tensione di threshold quella sulla capacità supera i 2 terzi vdd indichiamolo qua 2 terzi vdd perché a 2 terzi vdd in questo momento noi abbiamo che r viene uguale a 1 e quindi l'uscita commuta un'altra volta a 0 quando l'uscita commuta a 0 discharge viene attivato di nuovo e la capacità quindi si scarica istantaneamente quindi io qui uso un tratto un po' più spesso che cosa succede la capacità si carica da 0 a 2 terzi vdd quando si arriva qui parte discharge e si scarica subito ok 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 allora a questo punto concludiamo un attimo facendo questo conto è abbastanza facile fare il conto di quanto dura questo impulso questo qui chiamiamolo t vedete il tempo che ci mette l'esponenziale andare da 0 a 2 terzi vdd allora qua l'esponenziale lo possiamo scrivere come fatto sarà vc dt uguale a vdd per e alla meno t su rc vedete perché quando t è uguale a 0 la termita parentesi fa 0 e quindi vc è uguale a 0 quando t tende a infinito l'esponenziale tende a 0 la termita parentesi quadrata è 1 e quindi vc è uguale a vdd questo è l'andamento classico dell'esponenziale di carica di una capacità va bene all'istante t grande vc sarà uguale a 2 terzi vdd quindi vc di t grande è uguale a 2 terzi vdd e quindi dobbiamo fare per ricavare t vdd uguale a e alla meno t grande fratto rc da cui posso ricavare t grande vedete facendo il conto porto l'1 da una parte mi viene un terzo uguale a e alla meno t grande fratto rc e quindi t uguale a rc logaritmo di 3 quindi la durata del gate dipende praticamente da r da c che è una costante vedete un circuitino che si fa prendendo un lm555 con una resistenza e una capacità la durata del gate dipende solo dal valore della resistenza e dalla capacità che scelgo e posso ottenere praticamente in questo modo il valore che voglio quindi diciamo il vantaggio è che non ho bisogno di altro ed è immediatamente disponibile appena è finito il gate la capacità è scarica quindi posso subito ripartire con un altro impulso di gate quindi ecco come si dice in brutta parola insomma retriggerabile cioè appena finisce si può far ripartire non c'è bisogno di aspettare che il sistema da riposo ecco tanti circuitini di questo tipo si possono vedere con questo lm555 vedete in pratica con due comparatori un transistore di un latch sr e un un transistore di pull down insomma si può giocare e fare tanti circuiti generatori vari donna rettangolare quadra di gate eccetera insomma tutte le cose che abbiamo visto con circuiti a scatto si possono riuscire a ottenere anche con questo ma qualche esempio lo vediamo un pochino più avanti per ora ci fermiamo e poi riprendiamo la settimana prossima grazie mille